Chi aprirà questo cancello e porterà i rifiuti che provengono dall'intera provincia depositandoli sulla falda compirà un atto che impone una responsabilità assoluta i cui effetti si protorranno sulla salute non solo nostra ma dei figli dei nostri figli. E' un incubo che negli anni scorsi sembrava essere stato scongiurato e che durante l'ultima assemblea dei sindaci con la presenza di Ager è tornato invece a fare capolino generando una nuova levata di scudi forte e compatta che in mattinata si è fatta protesta. L'ipotesi di attivazione della discarica di Corigliano d'Otranto situata sulla falda freatica dalla quale attingono i pozzi dell'acquedotto pugliese torna a far tremare. E non soltanto il comune dove l'impianto si colloca ma anche il resto del Salento che non intende abbeverarsi con acqua contaminata. I rifiuti della discarica e l'acqua di falda a Corigliano sarebbero separati da soli 40 metri di fragile roccia calcarenitica, fortemente permeabile. Pericolo questo confermato dagli studi scientifici condotti sul posto e dallo stesso acquedotto pugliese e per il quale davanti ai cancelli della discarica questa domenica mattina si sono radunati a protestare cittadini, ambientalisti, forze politiche e sindaci insieme. In quest'area già abbiamo diverse realtà che incidono sul nostro territorio, diverse attività industriali che ognuna a modo loro pur eventualmente rispettando la legge però insiste sul nostro territorio dal punto di vista ambientale. Le garanzie di tutela dell'ambiente non sono sicuramente totali, l'invito è quello di trovare altre soluzioni, visto anche il dialogo che è in corso tra i sindaci, Ager e tutti gli enti interessati al piano rifiuti. Pretendiamo l'assicurazione della regione che questo non sia pericoloso e comunque è opportuno coinvolgere la cittadinanza locale, essere presenti e capire qual è la situazione e qual è il pericolo della nostra cittadinanza. Chiaramente sentiamo il bisogno di protestare ma soprattutto di rappresentare il nostro comune e manifestare la nostra vicinanza. Su quello che è stato l'investimento fatto dalla regione, quindi con i soldi dei cittadini per questa discarica, c'è la disponibilità a ragionare per altri tipi di utilizzi che non vadano a intaccare la falda, quindi c'è un senso di responsabilità doppia. Allora oggi si deve riprogrammare un ciclo dei rifiuti ambientalmente sostenibile e questo praticamente per questo noi continueremo le nostre battaglie. è un piano che non solo non elimina l'olicopolio che oggi c'è nel settore della gestione dei rifiuti, ma lo accentua ancora di più, quindi propone impianti mega, disattendendo anche le richieste dei sindaci. Quello che noi vogliamo evitare è che si crei il problema di un percolato inquinante fino a rovinare del tutto la falda che già è inquinata per diversi motivi, fitofarmaci e discarici. L'accelerata sulla scelta di questo sito è la conseguenza della misura colma delle discariche di Ugento e Cavallino, che nei prossimi mesi potrebbero fermarsi come annunciato dai rispettivi sindaci dei due paesi. Martedì il nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti sarà portato in consiglio a Bari e lì la battaglia continuerà tramite chi se ne farà portavoce. Lo ha detto chiaro e tondo con una mozione del primo dicembre, adesso siete nuovamente qui per ribadirlo. Sì, lo ribadiamo anche martedì perché questa discarica non si deve aprire, perché è stata sbagliata la localizzazione già nel 2003, è stato ribadito in più occasione che qui sotto c'è una falda acquifera che disseta il Salento e oltre a questo c'è anche da considerare che penso che il tempo delle discariche sia finito. Noi da questo piano regionale dei rifiuti ci aspettavamo finalmente una proiezione, una prospettiva di utilizzo dei rifiuti come una risorsa, perché si può fare economia circolare con i rifiuti, abbiamo delle idee, abbiamo dei progetti che presenteremo anche in consiglio regionale. Un fatto è certo, siamo stanchi di dover sempre inseguire battaglie di buonsenso quando il buonsenso ormai penso che abbia perso la bussola della politica e quindi noi siamo in campo come lo siamo in ogni occasione quando si tratta di difendere il Salento, la comunità salentina e i cittadini di questo territorio. Quest'area è tra l'altro tra le più colpite in Italia per l'incidenza di cancro, come hanno messo in evidenza i recenti dati contenuti nei registri dei tumori. Un altro rischio di non poco conto che rafforza un no già perentorio. La situazione sanitaria ed ambientale del Salento è tale da non potersi permettere ulteriori pressioni di carattere ambientale, non è sostenibile questo, non è accettabile.